Ogni nuovo accessorio nasce da un'idea dello stile che si trasforma in una richiesta per la realizzazione di un prototipo. Tale richiesta viene abitualmente trasmessa con dei disegni all'ufficio progettazione accessori, che li traduce in un disegno CAD bi- o tridimensionale. Nel disegno CAD sono inserite tutte le informazioni necessarie ad uno studio preliminare per la costruzione del primo oggetto. Sia per il primo prototipo che per la successiva produzione seriale potranno essere utilizzate diverse tecniche costruttive. I fattori principali che determinano la scelta del metodo di costruzione sono essenzialmente cinque. Forma dell'oggetto, tempi di consegna richiesti, costi, quantità previste, destinazione d'uso dell'articolo.